Prima dell'udienza generale di mercoledì 29 novembre, il Papa ha ricevuto i dirigenti e i calciatori del Celtic Glasgow all'indomani della partita con la Lazio disputata all'Olimpico di Roma. Per non affaticarsi a causa dell'infiammazione ai polmoni, Francesco ha parlato al gruppo a braccio, esortando a mantenere lo spirito amatoriale del calcio. Nello sport la cosa forse più bella è la gratuità, quella bellezza del giocare insieme. Parole che hanno certamente attenuato la delusione per la sconfitta della compagine scozzese sul campo dell'Olimpico. Non importa se abbiamo vinto o non abbiamo vinto, non importa. Ognuno lotta per vincere, ma la vittoria non è la finale, può essere una sconfitta quella. La vittoria è tutto il percorso del gioco insieme, del gioco di squadra.